signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale e dall'inizio in realtà della scorsa stagione che stiamo parlando di scroll e di esplorazione e nello specifico quando abbiamo parlato di mega dungeon mi è capitato più volte di dire che i personaggi dovranno poi avere a che fare con le fazioni all'interno del mega dungeon fino ad ora che cosa siano effettivamente le fazioni è qualcosa che ho semplicemente detto ma non spiegato nel dettaglio perché di roba da dire per quanto riguarda esplorazione mega dungeon schiena già abbastanza ma adesso che sono passati sei mesi all'argomento è stato abbastanza sviscerato forse il momento di tornare indietro e cominciare a vedere più nel dettaglio cosa siano appunto queste fazioni all'interno di un'ambientazione di gioco di ruolo sicuramente non chiuderemmo tutto questa settimana anzi l'argomento sarà molto lungo questo sarà il primo video di una serie per cui sto ancora raccogliendo materiale nel momento in cui registro questo video quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo questo primo video in cui andiamo a vedere cosa si intende quando si parla di fazioni durante i loro viaggi che siano viaggi di esplorazione o semplicemente spostamenti da un punto a un altro nella mappa di campagna i personaggi entreranno in contatto con vari png e se il master ha fatto bene il suo mestiere questi ptg dovrebbero ognuno avere oltre che a una propria caratterizzazione delle proprie motivazioni dei propri interessi che li porteranno a essere a seconda della situazione alleati nemici o più probabilmente neutrali nei confronti del party per molte avventure la questione non deve diventare più complicata di così il party avrà dei png neutrali con cui dovrà commerciare barattare scambiare informazioni e poi avrà dei png alleati che in qualche modo gli aiuteranno a sconfiggere i png avversari e fine della quest bisogna però dire che se il master vuole creare un'ambientazione particolarmente verosimile o comunque particolarmente dettagliata nessun png della quest esisterà fine a se stesso nel vuoto ognuno di essi farà parte di un qualche tipo di organizzazione corrente di pensiero ideologico politico filosofico religioso quant'altro e comunque farà parte di un gruppo più vasto di png che a loro volta faranno parte di altri gruppi che a loro volta andranno a formare il tessuto sociale dei png dell'ambientazione esattamente come succede per le persone reali all'interno del mondo reale per quanto il master debba sforzarsi di rendere ogni png unico riconoscibile e memorabile esiste un limite al livello di caratterizzazione che il master può dare a un png anche solo per il fatto che il png non è una persona reale e il suo scopo principale è quello di esistere come interfaccia che i pg giocanti dei giocatori avranno con il resto dell'ambientazione una persona reale potrebbe avere centinaia migliaia di sfaccettature della sua personalità e perseguire gli interessi più disparati se ogni png fosse gestito in questo modo semplicemente il master dopo poco impazzirebbe quindi per semplificarsi la vita ed evitare di perdere tempo in caratterizzazioni che magari sono anche del tutto inutili alla logica della quest la cosa migliore da fare per il master è raggruppare i png in base alla logica delle fazioni esistono regolamenti che abbiano proprio regole specifiche per gestire l'organizzazione le interazioni tra png e giochi diversi potrebbero definire la cosa con termini diversi per quanto riguarda noi definiamo una fazione un qualunque raggruppamento di png o di png e pg che sia identificato da uno più interessi in comune bene quindi adesso dobbiamo andare a definire cosa siano questi interessi in comune nello specifico dipenderà ovviamente da quale sia la fazione di cui stiamo parlando e di quale sia la logica del mondo di gioco in cui questa fazione è stata inserita però in linea di massima possiamo dire che questi interessi siano qualsiasi cosa i membri della fazione ritengono che sia loro vantaggio venga fatto o non fatto o comunque qualsiasi cosa essi ritengano essere in qualche modo per loro un beneficio qui non fate l'errore di trattare questi interessi come se fossero delle vere e proprie missioni specifiche ovviamente l'interesse dei briganti che vivono nel bosco è assaltare la carovana e l'interesse dei pg è quello di difendere la carovana dall'assalto ma questo tipo di cose sono più che altro delle conseguenze dell'interesse non l'interesse della fazione vero e proprio le fazioni infatti servono come gruppi ideologici all'interno di cui il master raggruppa i png con motivazioni simili mettiamola così e che gli servono come strumento per semplificare le reazioni del mondo alle possibili azioni dei pg di conseguenza il loro interesse normalmente non è qualcosa di specifico questo è qualcosa che entrerà in gioco dopo in fase di quest l'interesse di una fazione è qualcosa di più vago e indefinito che serve a fare in modo a dare al master uno strumento che gli permetta di analizzare quello che i giocatori hanno fatto e decidere quale sarà la reazione di tutto il blocco dei png a questo specifico avvenimento per dirlo in parole povere manteniamo l'esempio l'interesse dei briganti che vivono nel bosco non è quello di assaltare la carovana l'interesse dei briganti è quello di arricchirsi tramite attività criminali dato che il loro interesse è arricchirsi col crimine una delle cose che faranno sarà assaltare la carovana sarà in base alla motivazione arricchirsi con l'attività criminale che il master valuterà quale sarà la reazione della fazione alle azioni dei giocatori i pg dei giocatori fanno qualcosa per ostacolare il crimine nella zona la fazione dei briganti poi in mente diventerà ostile nei loro confronti e cercherà di ostacolarli anche in questo caso facendo azioni specifiche all'interno della loro motivazione cercare di guadagnare soldi con l'attività criminale magari ostacolare i pg non sarà direttamente una fonte di reddito per loro ma gli permetterà se li sconfiggono di fare soldi in seguito ovviamente al contrario se i pg fanno qualcosa per favorire l'attività criminale la fazione potrebbe diventare amichevole nei loro confronti e magari a un certo punto mandare qualcuno a chiedergli se vuole entrare nella fazione molto probabilmente la maggior parte delle fazioni del gioco però in linea di massima rimarranno neutrali nei confronti dei pg a meno che i pg non facciano esplicitamente qualcosa pro o contro quella fazione specifica usando questo sistema che fondamentalmente raggruppa tutti i png in delle macro fazioni per il master risulta non solo più facile stabilire quale sia la posizione politica dei pg all'interno della quest detta in parole povere quale sia l'impatto che i pg hanno avuto sul mondo di gioco e quale sia la reazione che il mondo di gioco ha avuto a seguito di questo impatto ma anche prendere rapidamente delle decisioni quando i pg avranno a che fare con png che non sono ancora stati ben presentati o magari non hanno mai proprio avuto una reale forte caratterizzazione o molto più probabilmente quando il master dovrà reagire a qualcosa che i giocatori hanno fatto che lui non si aspettava e quindi non ha dei png pronti con cui farli interagire e dovrà improvvisare l'intero png in quel momento per fornire un qualche tipo di interfaccia ai giocatori il master ha deciso di introdurre nell'ambientazione come principale fazione della zona i briganti che vivono nel bosco dato che si aspetta che i giocatori interagiranno più volte con questi briganti si era preparato non solo magari un profilo delle statistiche delle abilità per i più importanti png dei briganti ma anche un profilo psicologico di magari il capo dei briganti alcuni dei suoi luogotenenti più fidati e altri png al loro interno che lui riteneva sarebbero stati importanti per la quest tutto questo perché era partito dal presupposto che i giocatori magari non avrebbero semplicemente combattuto contro i briganti ma avrebbero voluto cercare un'alleanza con loro o anche solo avrebbero combattuto con i briganti ma avrebbero perso sarebbero stati catturati e quindi avrebbero poi dovuto interagire con qualcuno nel campo dei briganti mentre erano lì che cercavano di liberarsi i giocatori però ovviamente non sanno che cosa il master abbia in testa e non hanno idea del fatto che ci sia una trama che loro devono seguire questo è il bello del gioco di ruolo per cui hanno pensato sì che potrebbe essere una buona idea allearsi coi briganti ma non hanno pensato di entrare nel bosco per andare a parlare col capo dei briganti in persona anche perché sennò avrebbero rischiato di essere attaccati e catturati ma hanno guardato la mappa hanno cercato semplicemente qual è il posto che abbia una locanda più vicino alla foresta dei briganti hanno pensato che probabilmente i briganti faranno qualcosa con i soldi che briganteggiano alla gente quindi sarà abbastanza probabile trovare qualcuno di loro in quella locanda e magari cominciare ad approcciarsi ma in un territorio neutrale effettivamente un'ottima idea probabilmente migliore di quella che aveva pensato il master questo è normale nella vita del master le cose più semplici normalmente ci sfuggono e tra l'altro comunque sarebbe brutto dato che il master non aveva pensato a nulla semplicemente dire ai giocatori no in locanda non c'è nessuno perché hanno avuto una buona idea e devono essere premiati per questo non avrebbe però altro senso di mettere il capo dei briganti o i suoi più fidi del luogotenenti che girano tranquillamente per la città senza che nessuno li riconosca e gli arresti la cosa migliore da fare in questo caso sarebbe appunto creare dei png magari briganti di basso livello quindi non particolarmente seguite le autorità e che quindi possono anche permettersi di passare il pomeriggio a bere in locanda senza che nessuno gli dia fastidio ma che i giocatori potrebbero riconoscere o che loro potessero riconoscere i pg dei giocatori e quindi permettere questa interazione con la fazione dei briganti per le loro statistiche il master può semplicemente avvalersi di un blocco di statistiche che aveva già preparato per quelli che sarebbero stati i generici png dei briganti ne avevamo già parlato nel video sul fare un bestiario ve lo lascio qua su non sto a ripetermi però per quanto riguarda le loro motivazioni il master dovrebbe del tutto improvvisare perché questi sono png che ha dovuto inventare sul momento per venire incontro ai giocatori e preparare un profilo psicologico anche minimale in tempo reale mentre i giocatori stanno facendo domande parlando interagendo non è il massimo per lavorare bene e qui è proprio dove la logica delle fazioni viene in aiuto il master non ha bisogno di improvvisare del tutto i png si può presupporre in grossa maggioranza saranno tutti affini a qual è la motivazione e gli interessi della fazione a cui fanno riferimento abbiamo detto che i briganti vogliono arricchirsi con l'attività criminale bene non necessariamente ogni singolo membro la vedrà esattamente lo stesso modo ma questi png che stiamo improvvisando possiamo dare per scontato che siano favorevoli a qualsiasi proposta da parte dei giocatori li porti a guadagnare soldi rubando e siano contrari a qualsiasi cosa non sia questo questa sarà la lente attraverso cui il master valuterà le loro risposte alle proposte dei giocatori il master si è rapidamente tolto dall'impiccio di dover motivare questi personaggi la motivazione era fondamentalmente preimpostata e per quello che gli serve per finire la scena e adattarsi alla scelta dei giocatori a quello che gli serve ovviamente se deciderà che questi png possono tornare utili in seguito o ha visto che i giocatori li apprezzano particolarmente comunque se questi png dovranno essere più approfonditi di così il master potrà comunque creare un loro profilo vero e proprio tra una sessione e l'altra senza doverlo fare in fretta e sotto pressione mentre master alla quest se dal punto di vista pratico per il master la cosa più importante è la motivazione di una fazione in realtà voler fare le cose bene ci sono ancora un sacco di elementi cominciamo a introdurli li vedremo poi nel dettaglio nei prossimi video il primo è il modus operandi della fazione cioè come la fazione cerca di portare a termine il suo obiettivo i briganti del bosco vogliono arricchirsi con mezzi illeciti ma anche la gilda dei mercanti disonesti che fa speculazioni finanziarie nel quartiere del porto vuole arricchirsi con metodi disonesti e anche il malvagio barone che alza le tasse sui sudditi vuole arricchirsi con metodi disonesti apparentemente tutti questi tre gruppi di interesse hanno la stessa motivazione ovviamente però non agiranno nello stesso modo perché avranno a disposizione competenze e risorse diverse i banditi del bosco sono poveri quindi non hanno a disposizione né somme di denaro da poter investire con cui fare speculazioni con i mercanti né la proprietà di terre per diritto di nascita come il malvagio barone di conseguenza il loro metodo per diventare ricchi sarà quello di andare a rubare apparentemente questo sembra un discorso abbastanza ovvio ma se poi si va a vedere il mondo di gioco reale si scopre che molto spesso il master sottovaluta questo tipo di cose e presenta ai giocatori delle fazioni che se poi si va a analizzare il mondo di gioco fondamentalmente agiscono in una maniera del tutto incongruente rispetto a quale sarebbe la loro effettiva disponibilità vi è mai capitato di fare una quest in cui dovete sconfiggere la gilda dei ladri locali che è composta principalmente da gente che va a scippare le vecchiette al mercato e poi quando andate nel covo segreto per l'ultimo scontro dentro ci trovate un tesoro di decine di migliaia di monete d'oro se avevano così tanti soldi davvero la cosa migliore che potevano fare era scippare la gente al mercato magari potevano investirli e tentare non so attrezzature oggetti magici per fare rapine più grosse o anche semplicemente investire quei soldi e diventare degli uomini d'affari legittimi oltre a questo bisogna poi pensare a come la fazione viene presentata ai giocatori non tanto dal punto di vista dei suoi ideali ma proprio da un punto di vista di descrizione estetica della fazione una buona descrizione e inserire nelle descrizioni degli elementi caratteristici possono aiutare molto anche solo a permettere ai giocatori di identificare facilmente chi sia il membro di una fazione o di un'altra però questo è davvero un discorso estremamente lungo quindi ne parleremo tra qualche settimana nel prossimo video di questa serie per questo video invece è tutto avremo ancora tempo di parlarne sicuramente non è finita qua ma come vi ho detto io la sto ancora scrivendo questa serie anzi mentre siamo qui scrivetemi sotto nei commenti tutto quello che ritenete sia importante o che comunque dovrebbe essere citato quando parliamo delle fazioni non è detto che non esca proprio un vero e proprio video che faccia un video in cui fondamentalmente rispondo a delle varie domande come sempre scrivete anche se avete eventuali domande, dubbi, perplessità se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo vi è piaciuto a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco al gruppo i telegram dove metto io gli annunci dei video manualmente e dove si raduna anche il resto della community del Master CAE per il resto io sono il Master CAE e noi ci vediamo al prossimo video